Ciao da San Francisco, siamo qui per parlarvi di un gioco indie che abbiamo visto ormai qualche giorno fa, molto bizzarro, molto particolare, a modo suo interessante, non ci ho capito niente ma tu l'hai osservato con un po' più attenzione di me e soprattutto hai parlato con chi lo sviluppando, quindi forse hai capito qualcosina in più, si chiama The Totem Teller, era all'evento di Xbox, era il gioco della droga. Ah il gioco della droga, ma che meraviglia ragazzi, The Totem Teller è... Lo sguardo perplesso quando ho detto il titolo, poi ho dovuto spiegare che cos'è. Sì sì no, beh perché figurati, no no però cacchio, The Totem Teller era effettivamente una di quelle robe che sei lì nel marasma della fiera con 20 giochi nella stessa stanza, nello stesso corridoio, però vedi questa roba che ti fa abbastanza fermare, annulla come per magia tutto il marasma circostante. Lì per lì sembrava lo stile di Hyper Light Drifter, con la differenza che era ancora più glitchato, ancora un po' come le vecchie, come tipo delle stampe asci, cioè quelle cose tutte strane, coloratissime ma con tutte quelle texture lì da bassa definizione, fighissimo. Gioco narrativo comunque, in cui il fulcro di tutto sta nel, a quanto ho capito, ricostruire delle vecchie storie o comunque un filone narrativo folcloristico, per cui c'è, non lo so, uno spirito, un'entità superiore che parla con il protagonista, che poi siamo noi nella figura di una roba alla Journey, cioè un telone, un telone che cammina alla Journey, e gli parla riguardo a, appunto, al ricostruire le storie, al collegare i puntini narrativi nell'economia di un racconto più grande, e tra l'altro la cosa molto bella è che, cioè la cosa che è ancora più interessante è che l'aspetto visivo dei livelli o comunque la struttura dei livelli, richiama, appunto, alcuni alcuni aspetti del, non so, del tipo del blocco dello scrittore, per cui alcuni aspetti frammentati dei livelli sono poi da ricomporre, andando a tentativi, capita di bloccarsi brevemente perché non si è esplorato tutto, tutte queste cose qua, poi è molto criptico, la demo che era portata lì era solo per far vedere il concetto, fondamentalmente, perché poi mi dicevano che come minimo ci varrò un anno per finirlo, però figo, bellissimo. Bene. E poi forse il più grande esponente del grande concetto del messaggio di questa GDC, che sono quei giochi che vogliono raccontarti qualcosa ma non si capisce un cazzo, quindi bene, viva il messaggio. Ok, e per The Totem Teller è tutto, ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.